L'adolescenza è un tempo difficile, un tempo di cambiamenti e di instabilità, ma non è una patologia che dobbiamo combattere. Con una riflessione lunga e articolata, divisa in sei capitoli, Papa Francesco ha inaugurato il convegno ecclesiale della Diocesi di Roma sul tema «Non lasciamoli soli, accompagnare i genitori nell'educazione dei figli adolescenti». Anzitutto il Pontefice ha chiesto di pensare in dialetto, in romanesco, per calarsi nella concretezza delle cose e dei problemi, perché la complessità di una grande metropoli non ammette sintesi riduttive. Dinanzi a una società sradicata, famiglie che sembrano non avere una storia, con il rischio crescente per gli individui di essere trascinati dal vento, Papa Bergoglio ancora una volta ha indicato nei nonni un prezioso alleato per l'educazione dei ragazzi. È importante infatti studiare le lingue, formarsi in vari campi, ma affinché i nostri giovani siano sognatori, ha detto, è necessario che ascoltino i sogni profetici dei loro padri. Passando in rassegna temi quali l'educazione integrata e la golosità spirituale, il successore di Pietro ha anche messo in guardia da quella forma di competizione che mettono in atto alcuni genitori, invece di confrontarsi con i propri figli. Sembra che crescere e invecchiare ha detto sia un male, ma è davvero triste vedere qualcuno che vuole farsi il lifting al cuore. È dunque fondamentale ascoltare i giovani e camminare insieme con loro. Loro cercano in molti modi la vertigine che li faccia sentire vivi, dunque diamogliela. Stimoliamo tutto quello che li aiuta a trasformare i loro sogni in progetti e che possano scoprire che tutto il potenziale che hanno è un ponte, un passaggio verso una vocazione nel senso più ampio e bello della parola. Proponiamo loro mette ampie, grandi sfide, e aiutamoli a realizzarle, a raggiungere le loro mette. Non lasciamoli soli, perciò sfidiamoli più di quanto loro ci sfidano. Prima del discorso di apertura, nel salone del Palazzo dei Canonici, il Pontefice ha incontrato alcune famiglie di migranti, ospiti delle parrocchie e degli istituti religiosi della Diocesi di Roma.